Finisce 54-43 il derby del Tiguglio di Serie D di Basket, a portare a casa la vittoria il Blue Sea Lavagna, che nella palestra dell'impianto sportivo San Martino a Cogorno è riuscito ad avere la meglio sul villaggio basket al termine di un incontro acceso, ben giocato da entrambe le parti. È stata dura, è pur sempre un derby, quindi i contatti e l'agonismo c'erano, siamo tutti amici, ci conosciamo, poi in campo per 40 minuti mettendo a parte tutto. È stata una vittoria importante, siamo riusciti nei momenti più di difficoltà a compattarci, a resistere, i ragazzi più giovani ci hanno dato una mano, noi vecchi ci siamo battuti, quindi è stata una vittoria molto importante per il gruppo, era una partita contro un'ottima squadra, quindi molto molto bene, una buonissima domenica. È una vittoria di squadra, una vittoria dei ragazzi che hanno saputo lottare sempre su ogni pallone, come mi avevo chiesto io, lavorando duro in difesa, stando attenti, comunicando e dimostrando di essere veramente pronti e essere in campo quando sono stichiamati in campo. Quando sono sempre presenti, questo è importante perché tutti quelli che sono entrati hanno portato il loro contributo. Per la squadra di Lavagna, punteggio pieno in classifica dopo 5 incontri a 10 punti, a fare la differenza è stata la difesa, in grado di respingere gli assalti del villaggio, che soprattutto nella terza e quarta frazione di gioco non è riuscito a tenere il passo degli ospiti. I combattivi in difesa abbiamo subito 54 punti, ci è mancato l'attacco, con qualche canestro di Setaro, di Gabri da fuori, di Beltrami, quindi insomma ci è mancato qualche punto dai nostri esterni. Forse è appunto qualche tiro da fuori perché sotto, malgrado forse gli altri erano più fisici, ci avete tenuto. Sicuramente loro sotto canestro sono più pesanti, più esperti e da fuori ci è mancato qualcosa, non perché non erano tiri da prendere ma perché stasera non sono andati a buon fine. Grazie a tutti.